La scommessa è stata vinta. Un grande impegno, una grande squadra e davvero un grandissimo risultato. Oltre 35.000 visitatori, una grande soddisfazione che ci ripaga tutti gli sforzi messi in campo. Evidentemente fare squadra e portare la bellezza, perché di questo si tratta, nella nostra città, premia tutti. Con oltre 35.000 visitatori, di cui 900 solo nell'ultima giornata, si è chiusa la mostra Signorelli 500, maestro Luca da Cortona, pittore di luce e poesia, inaugurata al MAIC lo scorso 23 giugno. Un'esposizione nel 500esimo anno dalla morte che ha riportato il grande pittore al centro del rinascimento italiano. Abbiamo abbattuto tutti i record di presenze a Cortona e quindi oggi non è soltanto il giorno di chiusura, è il giorno dell'inizio di una grande promozione che arriverà sul territorio appunto per i nostri Signorelli. Oltre 30 le opere provenienti da musei e collezioni private di tutto il mondo che sono state raccolte nell'allestimento al secondo piano di Palazzo Casali. È stata una bellissima occasione, una grande esperienza, un grande lavoro di squadra. Il privato e il pubblico sanno e possono lavorare insieme. Le celebrazioni, signore Liane, hanno visto la realizzazione di alcuni restauri, un catalogo e una guida dedicata agli itinerari che da Cortona si diramano in tutto il centro Italia. Siamo molto soddisfatti della riuscita che ha avuto l'idea di coniugare la mostra con la proposta di itinerari, sia in città che sul territorio, perché la nostra idea e il nostro intento è di non far spegnere le luci su Luca Signorelli ma al contrario di fornire suggestioni perché tutti i residenti, i turisti vadano in cerca delle opere del grande maestro in un territorio così ricco come è quello della Toscana, dell'Umbria e delle Marche.